grazie per il tuo gesto siamo solo un pochino dispiaciuti perché quella munizione è una volta che qualcuno si ricorda di noi guarda caso paff e ancora è punito anche gli arbitri non capiscono invece noi l'abbiamo ben capito quindi questo gesto qua ti ha fatto entrare di diritto nei nostri cuori oltre a darci una soddisfazione grande giusto infatti noi domenica siamo lì da voi al tardini attifare forza parma siamo nel settore disabili se vuoi venirci a trovare a noi farebbe molto piacere grazie grazie ancora maestro e complimenti ciao e segna per noi alle prossime partite